La compagnia portuale, quando era compagnia unica, aveva la categoria del tiraggio, che erano il personale che andava a bordo, che agganciava, sbarcava con i mezzi di bordo, con le gru e che scendeva nelle stive o sui container. I facchini erano quelli che operavano a terra, sui camion, sui vagoni, a deposito, deposito si intende sbarcare e lasciare a terra, a magazzino, a terra. I pesatori, che era la mia categoria, perché io ero un pesatore, che facevamo un po' lavoro da impiegati, eravamo un po' fatica, noi ne facevamo poca, perché il nostro compito era quello di controllare le marche della merce che venissero sbarcate senza qualità per qualità, per quello di bordo. Per il pesatore di terra, ce n'era uno a bordo e uno in terra, di caricare il camion, il quintalaggio del camion, di arrivare a quel quintalaggio dichiarato e di non mischiare anche lì la merce. La categoria dei facchini era quasi tutti persone che venivano da Ellera, Albisola Superiore, Santuario, Leggino, erano tutti contadini che quando c'era lavoro venivano in porto, se no lavoravano nella terra di proprietà. Mentre la categoria del tiraggio erano più, diciamo, gente dalla città che non dalla periferia. I rischi nel porto ce n'è sempre stato tantissimi. La gente, forse noi all'opinione pubblica non eravamo tanto ben visti perché dicevano che guadagnavamo tanto, ma non hanno mai considerato il pericolo che esisteva nel lavoro del portuale. Io purtroppo ho perso un nonno schiacciato da una gru. Tanti altri miei colleghi sono stati operati di ernia del disco, operati di tumori a rene. Noi, io ricordo benissimo che sbarcavamo dai vapori russi sacchetti di amianto con scritto Asbestos. La famosa Asbestosi ha preso il nome di lì. I vapori americani che venivano, che li sbarcavamo addirittura in rada, perché quando arrivavano avevano premura, non c'era posto, si andava in rada con le chiate. Avevano dei fusti senza nessuna scritta, fuoriusciva del liquido che non si sapeva cosa era, però c'era il teschio con la morte stampata. Dobbiamo ancora sapere ora cosa contenevano quei fusti lì. Si imbarcavano le macchine, venivano a Savona, era ai tempi della Fiat, che una volta alla settimana almeno c'era una linea, la UGLAND, con i nomi delle navi, erano addirittura Savonita, Laurita, Torinita, e si imbarcava 2-3 mila macchine per nave, con turni di 6-700 macchine a turno. Il gas di queste macchine qui veniva respirato da tutti gli operatori, perché c'era chi le guidava e c'era quelli che dovevano bloccarle a bordo, poi il rizzaggio si chiamava rizzaggio, ancoravano le ruote, le legavano a delle catene che erano a bordo in modo che le macchine non muovessero durante il trasporto. E questi gas tossici qui, sì, avevamo la mascherina, ma con le mascherine di carta che non so cosa possono essere servite. Difatti se facciamo l'analisi dei portuali, dei vecchi portuali, tra quelli che camallavano proprio nel vero termine, i sacchi da quintale, quelli che operavano lì alle macchine, operati di erne del disco, non si contano, e morti di tumori in questi ultimi decenni ce n'è finché si vuole. La balla di celluloso una volta si sbarcava con i ganci, quattro per volta, quando erano ben messe tutto se ne sbarcava sei o otto, con le nuove tecnologie sbarcavano 64 balle per volta. Perciò è tutto detto. Prima erano tutte sciolte, i portuali dovevano muoverle tutte per sistemarle sui camion, andare terzo, quarto piano, pericoloso, perché ne è caduto più di uno dal quarto piano di un camion, mentre poi con le nuove tecnologie, 64 balle per volta, era mezzo camion già caricato, con due embragate. Io sono stato uno dei primi da quando è nato il terminal, Refer Terminal a Vado Ligure e lì abbiamo iniziato a lavorare con i primi computer. Venivano contate, tutte le cassette passavano attraverso una cellula che veniva, caricavamo sette camion ogni postazione, c'era quattro postazioni e 28 camion contemporaneamente, però noi operavamo davanti a un computer e il computer ci diceva tutto quello che avveniva, lo sbarco. Noi quando abbiamo visto la vera funzionalità del Refer Terminal pensavamo che non andasse più alla fine. Difatti fino a qualche anno fa hanno sempre incrementato il lavoro con oltre che con la frutta, anche con altri prodotti, con gli agrumi, con i container. Ora improvvisamente, notizie di questi giorni qua che ci sono circa 70 licenziamenti alla dita Refer, non me ne riesco a capacitare. Allora io ti dico che quando ho cominciato a lavorare lì per me sembrava un po' uno scherzo, perché avevo nemmeno 16 anni che ho cominciato a lavorare in Porto e tanti li conoscevo e tanti no, avevo gli zii, i cugini, avevo un sacco di parenti che lavoravano lì. Ero un ragazzino, anche se ero grande e grosso come gli altri, però mi sembrava quasi un gioco, senza rendermi conto del pericolo che ci circondava. Però nell'insieme era una bellissima cosa, perché si erano tutti amici, non c'era nemicizia tra di noi, era tutta una famiglia, era un bel ambiente. Diciamo che per conto mio non esiste più un ambiente così, un lavoro così, dove tutti si erano amici, finito lì andavi al bar, allora esistevano 4 chiamate, una mattina alle 8, una alle 10, una alle 2 e una alle 4 del pomeriggio e dovevi sempre essere presente, se non eri a lavorare o se finivi per dire per mezzogiorno un vapore, alle 2 dovevi andare alla chiamata, vedere se ti toccava qualche cosa, perciò eri sempre in Porto, la vita del Porto la facevi sempre, anche se non c'era niente, 4 volte al giorno eri lì, perché per andare lì alle 8, un quarto alle 8 eri lì, ci stavi fino alle 8 e mezza, fino alla fine della chiamata. Poi andavi a fare colazione, a quei tempi là la colazione consisteva anche due uova fritte, un po' di salsiccia e due bicchieri di vino. E alle 10 eri di nuovo lì, pomeriggio alle 2 di nuovo e alle 4 anche, perciò era la vita, eri tutto il giorno lì in Porto. Avevamo sul Kral che potevi andare a fare la partita alle carte, a leggerti il giornale, a chiacchierare o se no qualcuno se ne andava a fare un giro e poi ritornava per le 10. Quelli che non avevamo voglia di muoverci, ci facevamo la partita a bocette, la partita a carte, nell'attesa della chiamata o anche nell'attesa che potesse mancare qualcuno e che allora si usava fate il ruoto, ruoto era mettersi, se mancava una persona ti mettevi tutti in circolo, uno diceva un numero, il direttore di chiamata buttava una chiave, la chiave da chi partiva indicato per dire partiva era rivolta verso di te, questo ha detto 20, contavi fino a 20, chi arrivava a 20 il primo andava a lavorare se mancava una persona. Era bello da vedere anche, a volte c'era 50 persone, a volte ce n'era 4, 10. A 15 anni e mezzo andavo a scuola, ho smesso di andare a scuola e se non avevo più voglia, anche se non ero proprio un somaro, ero sempre rimasto promosso, fino alle 3 media la prima ragioneria e poi ho smesso, non avevo più voglia, ho preferito lavorare. Mi sono poi ritrovato a distanza di anni dei miei ex compagni di scuola col diploma e tutto che sono venuti a lavorare con me. Ai miei tempi eravamo come pesatori su 150, eravamo in due che non avevamo l'età. Poi abbiamo fatto il nostro tirocinio anche noi per passare a Ventizi e poi siamo passati ai soci perché era una lunga catena. I soci erano i più vecchi, erano quelli che erano soci effettivi della compagnia, per passare ai soci dovevi maturare un ventiziato, perciò quando il direttore di chiamata veniva lì al mattino e dichiarava tutti i lavori che c'erano da fare e il personale che doveva essere avviato. Quando erano esauriti i soci andava e prendeva gli avventizi con già una lista, un ruolino e li chiamava, loro non è che potessero scegliere il lavoro ma gli avventizi andavano dove diceva il direttore di chiamata, dove mancava gli uomini andavano gli avventizi. Una volta esauriti tutti gli avventizi c'erano i fuori via, i fuori via che erano gli occasionali, studenti d'estate, disoccupati e i primi tempi, quando io sono andato in porto c'era il direttore di chiamata che si affacciava alla finestra e diceva tu, 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 vai a lavorare e lì qualche favoritismo a quei tempi lì c'è stato, poi si è regolarizzato tutto anche lì con i ruolini, oggi vai te, domani vado io, sempre in regola. Per dare lavoro a tutti bisognava che ci fosse un vapore di farina di pesce o vapore di saccheria dove bisognava andare tanta gente e allora occupava un nero fumo. Quei lavori lì i soci, siccome loro avevano la possibilità di scegliere il lavoro, quando il direttore di chiamata dichiarava tutti i lavori che ci sono, il socio aveva la possibilità di dire rispondo a questo, questo, questo e i lavori più faticosi non li prendevano, li lasciavano, se c'era un altro lavoro, poi a quei tempi là c'erano anche i primi tempi le barche della Sardegna che noi chiamavamo le barchette e facevano viaggi dalla Sardegna qua con un po' di tutti i materiali, il vino, sardine, qualunque materiale di approvvigionamento e anche quei lavori, quelle barchette lì portavano diverso lavoro che era più lavoro per gli occasionali e per gli avventizi. Imbarcavamo tubi, poi imbarcavamo concime, concime lo imbarcavamo, erano tutti dono del popolo italiano, c'era scritto sui sacchi, andavano tutti giù nei paesi arabi, nel terzo mondo e la farina di pesce la importavamo dal Cile, era cellulosa tutti dai paesi nordici, da Canada, dall'America, legname Canada, quei paesi lì, il riso lo imbarcavamo, tanto riso imbarcavamo, la frutta vado, la frutta era tutta frutta di sbarco, c'era il periodo delle mele della Nuova Zelanda, che era verso giugno o luglio, c'era il periodo degli ananas e delle banane, quelle venivano tutto l'anno, allora noi principalmente si faceva la Del Monte, che era la marca di cui la dita Orsero erano i concessionari, l'avevano loro questa Del Monte, ora questi ultimi anni si sono messi fratelli Orsero, come ditta, ma poi qua poca cicchita facevamo, una volta c'era una marca che si chiamava Turbana, ne facevamo tanta di quella lì, e poi qualche vapore di carne congelata dall'Argentina, sempre lì al Terminal Refer, imbarcavamo le macchine, andavano tutte nelle Americhe, quelle di queste navi qua, del Savonita, Laurita, Torinita, poi c'era anche delle enormi navi che però non facevano parte della Fiat, delle navi Fiat che andavano negli Emirati Arabi, andavano nel Golfo, quelle lì erano quasi tutte macchine di lusso, Mercedes, tutte macchine grosse e così. Ma per Savona il Porto era la fonte di maggior lavoro che ci fosse, Ital Sidere e Porto erano quelli, poi hanno chiuso l'Ital Sidere, ha chiuso la Scarpa Magnano, ha chiuso Balbontino, ha chiuso le Pizzorno, le Fonderie, hanno chiuso tutti e è rimasto l'unico il Porto e ora non so come vada, e quindi si è rimasto il nostro corso,